E prendiamo anche in più una buona comprensione dell'importanza, il tesoro che è la parola di Dio, leggendo Salmi, capitolo 19, versetto 7 a 10, e leggiamo questo. La legge del Signore è perfetta. Essa, la parola di Dio, ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera. Rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità. Tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stila dai favi. Questa è la parola di Dio per noi oggi. Bisogna ricordarci quanto valore ha la parola di Dio. E chiediti oggi, rifletti un po', quanto valore dai tu alla parola di Dio nella tua vita quotidiana. Un cristiano dovrebbe valorizzare, capire che la parola di Dio è un tesoro, il tesoro più importante che si può avere. E l'oro, ad esempio, l'oro può risolvere tantissimi problemi nella vita. Se hai abbastanza oro, puoi avere la cura medica, qualsiasi, i dottori migliori in tutto il pianeta. Puoi avere, studiare dovunque vuoi, pagare qualsiasi cosa, andare dove vuoi, quando vuoi, fare il lavoro che ti piace, o non lavorare mai. Se l'oro può risolvere tutti i problemi della vita, quasi. Ma meglio ancora dell'oro, che può fare tutto questo, qualsiasi cosa, per noi è la parola di Dio. Ci credi? Oppure no? Le parole di vita che vengono dal nostro Signore Dio, colui che è un Dio personale e ci tratta come i suoi figli e ci ama, più importante dell'oro è la parola di Dio. Questo leggiamo qui, più importante dell'oro. Il salmista oggi, nel suo brano, ci ricorda che bisogna tenere la parola di Dio nel nostro cuore, perché sono vita, sono vita per quelli che ritrovano, salute per tutto il loro corpo. La parola di Dio è vita per noi, vita, cura, salute per il loro, il nostro corpo. Questa è la parola di Dio. Un altro versetto che è importante considerare, considerando quanto è importante la parola di Dio per noi, per te e per me, è questo qui, Romani 6, 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La parola di Dio ci rivela, la legge di Dio ci rivela che noi non siamo abbastanza bravi per essere salvati. Quindi, nessuno è buono, nessuno è giusto, nemmeno uno, Romani 3, tutti noi siamo privi della gloria di Dio. E il salario del peccato è la morte. In altre parole, meritiamo ognuno di noi la morte. Abbiamo trasgredito la legge di Dio. Basta considerare un attimo, Dio ha detto non mentire. Tutti noi abbiamo mentito o non detto la piena verità. Siamo copevoli di questo peccato. Tutti noi, davanti a un Dio santo e giusto. Poi dice anche di non rubare. Ognuno di noi abbiamo rubato tempo dal nostro dottore di lavoro. Ho preso qualcosa che non è nostro. Abbiamo desiderato persone in modo non puro, non giusto. Gesù ha chiamato questo adulterio. Siamo copevoli di adulterio, avendo soltanto pensato delle cose, non pure verso altre persone. Siamo copevoli tutti quanti. E per questo dice l'Apostolo Paolo, il salario, ciò che meritiamo, il salario del peccato è la morte, la condannazione. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La vita eterna in Cristo Gesù. Per grazie, mediante la fede, siamo salvati. Sono vita per quelli che ritrovano la parola di Dio. Versetto 23 va avanti e dice questo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. È importante considerare, guardare, badare sul cuore, considerare la salute o no del nostro cuore. Veramente noi dobbiamo renderci conto della condizione del cuore. L'Apostolo Paolo ha detto una cosa molto simile, scrivendo a Efesini, capitolo 4, 29, che dobbiamo non avere parole perverse, ma di avere parole che edificano altri. I cristiani sono chiamati a usare bene la bocca per l'edificazione dell'uno e l'altro. A questo siamo chiamati utilizzare la nostra bocca, proclamare la buona notizia, discepolare altri, incoraggiare, edificare altri, tutto per la gloria di Dio. Ma poi anche Gesù ha parlato della bocca, l'importanza della bocca. Matteo, capitolo 15, versetto 17-19. Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, difamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Cosa sta dicendo qui Gesù Cristo? Sta dicendo che se vuoi capire la condizione del tuo cuore, basta considerare le parole che escono dalla tua bocca. La bocca, le parole della nostra bocca, rivelano la condizione del nostro cuore. La condizione del nostro cuore. E di nuovo, siamo qui, versetto 23, 24. Rimuovi da te la perversità della bocca. Quindi se vogliamo capire la condizione del nostro cuore e vogliamo capire, bisogna vedere la bocca. Lui dice qua, rimuovi da te la perversità della bocca, lontana da te la falsità delle labbra. Cosa è la tua bocca? Che cosa rivela la tua bocca del tuo cuore oggi? Questo devi considerare. Se vogliamo capire la condizione del nostro cuore, la parola, la bocca, rivela un po' la condizione del nostro cuore. Se hai una macchina, ad esempio, e vuoi capire lo stato o la condizione del motore, se esce fumo bianco, indica che c'è un problema con la guarnizione della testa della macchina. Un certo liquido entra e mescola insieme con un altro e crea un fumo bianco, indica che il tuo, il cuore del tuo motore, della tua macchina, il motore, ha un problema, è una indicazione. Se esce fumo nero dallo scarico della tua macchina, indica ancora un altro problema del motore, del cuore della macchina. Stessa cosa con la bocca, rivela certe cose che non vanno bene nel nostro cuore. Il Signore Gesù ci ha detto questo. Questo padre vuole rivelare, insegnare il suo figlio, rimanere sulla vita, la via giusta, abbadare il cuore. Un modo di fare è considerare la bocca. Perversità di parlare non ha posto nella vita di un cristiano e se ci sono cose lì che rivelano una mancanza di fede nel riposare nell'amore di Dio, eccetera, indica che qualcosa non va e dobbiamo venire al Signore con ravvedimento, con pentimento, chiedere perdono, essere di nuovo riconciliati in buona relazione con il nostro Padre Celeste. Grazie per aver visto questo clip dell'episodio. Se vuoi vedere l'intero episodio, c'è un link nella descrizione di questo video. Allo stesso tempo, ti invito a iscriverti al canale, così facendo vedrai ogni volta che esce un nuovo episodio. E se vuoi sostenere questo canale, o questo podcast, ti invito a lasciare una recensione da 5 stelle, e così facendo aiuterai altre persone a trovarci e ricevere le benedizioni dalla parola di Dio. Che Dio ti benedica. Ciao, ciao.